però cosa è successo in concomitanza di Svizzera Italia Andrea no che per qualcuno Svizzera Italia è ancora più sentita soprattutto per chi sta in Canton Ticino dove insomma la presenza di italiani è molto alta e c'è questa insomma sono vicini proprio i svizzeri italiani e lì si è vissuta questa sfida in maniera molto più sentita molto diversa e abbiamo anche qualcuno che ha scritto riguardo che vive in Ticino che è giornalista la mia stessa idea la mia stessa domanda se ti ricordi stiamo parlando nella nostra solita riunione di redazione e siccome poi nel corso della mia esperienza ho avuto modo di lavorare con delle emittenti svizzere, col Ticino e così, allora dovete sapere per chi magari fosse un po' più distante dalla Lombardia che in realtà come dire c'è questa parte della Svizzera che è la Svizzera italiana che è il Canton Ticino e lo sapete la Svizzera non è che abbia un come dire un background calcistico chissà quanto quindi un po' la vicinanza un po' il fatto che si parli in lingua italiana in Svizzera un po' perché anche Aldo Giovanni e Giacomo in passato con il rezzonico ci scherzavano a mai dire gol sta di fatto che io mi sono chiesto beh io mi immagino che gli abitanti della Svizzera italiana negli anni passati nei decenni scorsi si fassero comunque l'Italia negli appuntamenti internazionali che c'erano perché fondamentalmente la Svizzera non si qualificava adesso ragazzi la Svizzera è una realtà del calcio europeo ok e di conseguenza la domanda che siamo fatti e questo poi ci serve anche a introdurre l'ospite di oggi è stato ma adesso che succede? cioè i ticinesi cosa fanno? gli schizzinosi nel senso gli italiani e noi siamo forti piuttosto che c'è anche un po' di dispiacere no? da parte dei nostri vicini di casa di tutto questo di come poi i tifosi hanno vissuto Svizzera e Italia di come hanno reagito e di tutto il resto ne ha raccontato Roberto Scarcella a cui noi diamo il benvenuto benvenuto ciao ciao buongiorno grazie dell'invito ma figurati grazie a te per essere con noi Roberto come vedi insomma un po' le nostre domande hanno portato a te e penso che che sia stato anche un po' l'incipit di di questa tua piccola indagine no? sì sì spesso questo tipo di domande portano a me perché appunto essendo un italiano che vive e lavora in Ticino anche con amici conoscenti o anche insomma persone che vengono a sapere mi chiedono come si vive in Ticino com'è la vita in Ticino cosa si mangia come si parla cosa si fa come si diverte e anche come si vive un europeo e io sono a Stoccarda in questo momento quindi non sono in Ticino perché sto seguendo gli europei per il mio giornale che si chiama La Regione e l'inchiesta l'ho fatta in larga parte per via telefonica insomma recuperando i contatti che ho e parlando con colleghi amici l'ex vicino di casa insomma che più nella più ne metta e un ticinese medio non esiste cioè forse io ce l'ho anche mezzo in testa ormai però soprattutto sulla questione Italia Svizzera Europea per chi tifi è anche venuto fuori chiacchierando con i ticinesi c'è quello che tra virgolette ma nemmeno troppo odia l'Italia c'è quello che si sente italiano e svizzero e sceglie una delle due squadre a seconda anche del momento della vita c'è chi ti fa Italia sì ho sentito una persona che mi ha detto ma io anni fa ti favo più per la Svizzera ora ti fa un po' più per l'Italia mi sa che mi piace tenere di più per quella che per quella più scarsa insomma per capirci per quella che rischia di perdere più facilmente e poi appunto ci sono la classica empatia verso il più debole no? ma sì ci sta io ad esempio ho stratifato Georgia in questo europeo perché la vedevo proprio piccola in difesa ma coraggiosa e quindi e quindi ho scelto la Georgia quindi ci sta anche che uno Svizzero magari più empatico stia con quello che rischia di più di tornare a casa certo certo no e leggendo anche il tuo articolo mi aveva fatto molto divertire l'aneddoto del tuo collega che tornando dalla Grecia con con il figlio gli aveva fatto indossare la maglia della Svizzera in cocomitanza con la partita e non sapendo ancora che l'Italia avrebbe perso e volevo chiederti cioè c'è anche questo senso di cioè insomma come si è vissuto anche lo sfottò cioè gli svizzeri per una volta hanno detto siamo riusciti a batterli siamo riusciti a battere l'Italia che anche se in questo caso iniziano a essere un po' troppe perché c'erano anche le qualificazioni mondiali che hanno visto l'Italia uscire di scena malamente anche lì quindi insomma sta diventando anche un ammuntamento un po' fisso sì sì esatto poi devo dire che già forse è stato di più l'altra volta quando l'Italia è uscita dalle qualificazioni mondiali per i due pareggi e il rigore sbagliato da da Giorginio all'Olimpico stavolta sì ci sono stati poi vi ripeto io ora non sono in Ticino quindi non vedo quello che accade per strada ma risalto per strada non accade quasi niente in Ticino quindi gli sfottò sono più o sul luogo di lavoro o sui social quelli li ho visti li ho letti il mio collega è veramente un ticinese doc non dico medio perché medio secondo me è una persona molto molto brillante però è veramente un ticinese cioè lui non va a fare la spesa in Italia come ho scritto nell'articolo perché io sono svizzero guadagno i soldi in Svizzera e li spendo in Svizzera calcolate che da casa mia da casa sua al primo supermercato italiano è mezz'ora di macchina non è un grande viaggio oltre a risparmiare un sacco di soldi magari ti fai un giro insomma fai un po' un giretto in Italia lui non lo fa e ovviamente era molto contento e questa cosa della maglietta ha divertito molto anche me perché l'ha tenuta in tonza ha detto al figlio questa non te la mettere più perché deve arrivare sull'aereo per malpensa pulita te la devi mettere senza macchie senza niente perché quando arriviamo stranamente in modo un po' anche assurdo il volo era proprio durante la partita quindi loro sono atterrati senza veramente sapere niente era praticamente scritto poi io non l'ho pubblicata non glielo nemmeno chiesto magari lui mi avrebbe detto di sì non l'ho pubblicata sull'ultimo uomo ma io ce l'ho quella foto del bambino all'aeroporto con la maglia della Svizzera e devo dire che mi ha divertito anche se poi io mi trovo in questa situazione assurda per cui sono un italiano tifo Italia ma io scrivo della Svizzera quindi ho dovuto assistere alla partita all'Olimpia Stadion insomma come dire non dico col cuore diviso in due perché non è vero io tifo Italia basta hai dovuto fare il professionista esatto esatto visto che mi pagano a sto punto sapete com'è uno deve anche sapere come comportarsi però sono anche devo dire che alla fine sono anche contento che la Svizzera che è una bella squadra possa addirittura ambire a battere l'Inghilterra almeno questa Inghilterra che abbiamo visto finora che era veramente poca 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 roba ma prima di appunto di approfittare della tua presenza lì anche per chiederti un po' insomma che com'è il clima com'è l'atmosfera noi come vedi al mio fianco io sono un po' più datato però insomma ci piace rivolgerci e coinvolgere anche la generazione Z e ogni tanto in tutte le nostre chiacchiere diamo anche un po' di come dire informazioni di servizio siccome si sviluppa un po' il settore del giornalismo il nostro mondo di media certo Roberto tu cioè italiano in Svizzera un breve resoconto del tuo percorso giusto per capire il tuo profilo no? sì sì no il percorso è molto bizzarro perché io ho studiato al dance di Bologna cinema e non avevo idea di cosa fare nel mio futuro e non avevo idea di fare giornalista poi mi sono ritrovato a spasso dopo un contratto come dire mai onorato dalla controparte mi sono trovato a spasso e ho mandato curriculum praticamente a tutti e mi hanno risposto da Genova che era il posto da cui ero scappato quando avevo 18 anni cioè non volevo più vedere la Liguria e gli unici che mi hanno risposto come succede spesso in queste cose un po' così e sono stati loro quindi sono tornato ho fatto uno stage gratuito ovviamente perché guai farsi pagare per ben due volte anzi per ben tre volte me l'hanno rinnovato una volta e poi me l'hanno rinnovato una terza volta alla fine poi mi hanno fatto un contratto da praticante cosa che ora non si fa quasi più ora chi chi vi segue e magari è interessato a fare giornalista sa che ora ci sono tutte queste scuole di giornalismo dove ti viene un po' insegnato la teoria anche la pratica del mestiere e poi alla fine di questo percorso e di alcuni stage anche quelli gratuiti vai a fare l'esame di stato e diventi giornalista professionista c'è anche quest'altra strada che ormai non si fa quasi più non dico che sono stato uno degli ultimi ma ce ne sono sempre meno hai un contratto da praticanti a 18 mesi loro valutano in quei 18 mesi se tu sei all'altezza di continuare a fare quel mestiere alla fine di quei 18 mesi vai a Roma vai a dare un esame scritto e poi orale che è anche bello difficile è un esame di stato ed è difficile cioè bocciano un sacco di gente anche un sacco di gente preparata che scrive benissimo perché soprattutto la parte la parte scritta è un po' strana e la parte orale è completamente random cioè ti possono chiedere dai mondiali di calcio del 1930 alle guerre puniche al bar sotto se fa le brioche buone oppure no quindi è veramente complicatissimo a me è andata bene perché mi hanno chiesto tutte cose veramente a caso e le sapevo ma se mi avessero chieste altre 10 avrei potuto non rispondere nemmeno a una domanda quindi è è una lotteria non è un esame quello lì poi è chiaro che se lo vorrei fare devi studiare molto incoraggiante devi studiare un attimo c'è una parte da studiare soprattutto legate al codice civile codice penale le leggi il mestiere del giornalista quelle le devi studiare ma anche quelle sono tante domande e insomma uno può anche non sapere tutto e quella parte lì quella di cui ma il trasferimento in Svizzera Roberto? sì ecco ci arriviamo io ho fatto tanti anni al secolo XIX a Genova scrivendo lavorando anche per la stampa un giorno mi arriva un messaggio su Messenger di un vice direttore di questo giornale svizzero che mi dice ah ma ho letto un tuo pezzo di viaggio e mi è piaciuto molto vorrei che collaborassi con noi io tra l'altro risposi di no all'epoca ma insomma era un periodo un po' strano della mia vita no gentilmente non no andate a quel paese e poi esatto magari esatto non mandate a quel paese tutti quelli che vi cercano non conviene almeno all'inizio poi dopo se sono se dimostrano poca roba fatelo io ho fatto anche quello è andata bene così anche quello e insomma per stringere un po' alla fine io mi ritrovo in Cile nel 2019 e propongo un pezzo al mio giornale che lo rifiuta perché io mi ero trovato in mezzo agli scontri non so se vi ricordate nel 2019 in Cile c'è stata una specie di rivoluzione civile certo prima della pandemia esatto esatto poco prima della pandemia io dovevo andare a vedere la finale di Coppa Libertadores a Santiago del Cile che spostarono a Lima quindi alla fine non ho manco visto la partita però ero in mezzo agli scontri faccio questo pezzo lo scrivo il mio giornale non lo pubblica chiedo delle spiegazioni che non mi vengono mai date alla fine esce giorni dopo sul sito del giornale mi ricontattano e mi dicono ah bellissimo st'articolo vogliamo che lavori per noi nel momento in cui le persone che ti stanno dando il lavoro non ti fanno uscire il lavoro che fai e da fuori ti cercano cominci a dire ti fai più di una domanda nel giro di io ho scritto un po' di pezzi per loro durante la pandemia nel giro di meno di un anno mi hanno chiesto di andare a lavorare in Svizzera di diventare responsabile del settore esteri del giornale è un giornale abbastanza piccolo che ha una pagina di esteri al giorno non ha grandi non ha grandi spazi per trattare gli esteri però è una pagina a cui la direzione tiene molto io nel frattempo ho iniziato anche a scrivere di sport fare l'inviato su cose di sport e mi sono ritrovato anche ora agli europei degli europei dove tra l'altro la Svizzera comunque il calcio da quello che mi hai raccontato anche sul Cile comunque era già nei tuoi nello scenario che ti riguardava a livello professionale se eri lì per la libertà d'ores giusto? sì sì io scrivevo e scrivo come sapete come avete visto per ultimo uomo e poi anche prima avevo fatto già dei reportage delle cose di sport purtroppo così arriviamo a dove eravamo prima dove lavoravo prima pur essendo grande appassionato di sport se loro sanno che sei appassionato di sport non scrivi di sport non scriverei mai di sport di tutto tranne che di sport e quindi questo era uno dei motivi per cui insomma là non è che mi trovassi più tanto bene però sì ho scritto anche prima appunto anche insomma chi è magari interessato ci sono altri miei articoli su Ultimo Uomo uno è proprio l'ultima finale di Libertadores a Rio dove ho scritto sia per il mio giornale in Svizzera sia per Ultimo Uomo anche perché questa ve la racconto è anche là dell'articolo io mi ritrovo a Buenos Aires nel 2018 per puro caso quando c'è la famosa finale di Libertadores Boca Junior River Plate River Plate e io dovevo andare a quella partita la partita di ritorno la partita di ritorno quella che hanno spostato esatto solo che il mio volo arrivava a Madrid e il giorno dopo la partita di Madrid quindi questa partita insomma per una serie di coincidenze assurde pur essendo là non l'ho non l'ho potuta non l'ho potuta vedere l'anno dopo decido di andare a Santiago a vederla perché era diventato un mio piedo fisso e la spostano a Lima quindi sei tu l'anno dopo dovevo andare a Rio esatto l'anno dopo dovevo andare a Rio c'è stata la pandemia l'anno dopo a Guayaquil ho avuto dei problemi familiari quindi quello è stato anche insomma un gioco forza non potevo fare altrimenti l'anno scorso ho detto cascasse il mondo si va e incredibilmente non hanno spostato il luogo della finale già stavo dicendo ragazzi la finale degli europei non sarà in Germania stavo per dire vediamo vediamo magari ho ancora il tocco magico di spostare le finali ma quella di Rio sono al Maracanà cero e non l'hanno spostata nel frattempo e quindi torniamo cioè arriviamo poi a questi europei com'è l'atmosfera come alla fine voglio dire gli europei scorsi erano stati itineranti lo sappiamo finale a Wembley con l'Italia sembra sembra veramente sei epoche fa campione d'Europa pandemia praticamente ancora 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 in corso se non quasi in corso e campionati europei che tornano ad essere ospitati da un paese poi abbiamo visto i mondiali tra l'altro in Qatar quindi insomma siamo tornati un po' alla tradizione dell'organizzazione quindi ti chiedo un po' tutto in poche parole quello che stai vivendo organizzazione alla tedesca i tifosi cosa ti sta sorprendendo cosa ti sta piacendo meno allora intanto vi dico già da ora che se mi vedete collegato che sono un po' che barcollo è perché l'unica cosa che ho nella stanza in cui mi posso sedere è un'altalena ah vabbè dai quindi quindi purtroppo la situazione è questa infatti ho detto ma vabbè comunque è un bell'albergo a scuola altalena in camera al posto comunque volevo dirlo perché mi faceva ridere questa cosa in più magari chi vede una telecamera che si sposta dice ma allora no arriviamo dunque puntualità tedesca no io ho proprio scritto un pezzo che si intitola quei latini dei tedeschi perché tutti i treni sono in ritardo tutti tutti alcuni anche di ore io ho preso un treno da Lipsia a Dortmund per andare a vedere la Francia ho rischiato di non vedere la partita pur avendo cinque ore di vantaggio sulla partita aia e tutti i treni sono almeno come se lo facessero almeno dieci minuti di ritardo ce li devono avere poi ci sono quelli con un'ora quelli con due ore quelli soppressi non benissimo gli orologi delle stazioni spesso sono fermi a Francoforte me ne ricordo due fermi e anche l'organizzazione per arrivare allo stadio spesso è pessima e altri problemi un tram dopo la partita della Georgia mi sono ritrovato su un tram insieme ai tifosi scalmanati perché era la partita che mi hanno vinto col Portogallo un'ora dentro a un tram praticamente eravamo quasi senza aria e un treno soppresso per un paese dove dovevo andare dovevo l'albergo che mi ha fatto arrivare alle due o un quarto in hotel di notte e detto questo poi vabbè le cose a volte vanno così detto questo l'atmosfera è bellissima l'atmosfera è veramente veramente bella come dicevi tu siamo un po' tornati nel cuore dell'Europa siamo un po' tornati al siamo un po' tornati all'origine del calcio e da quel punto di vista ora lo raccontavo proprio a qualche amico l'altro giorno e ci sono state un paio di scene proprio belle cioè mi ricordo ad esempio un tifoso dell'Inghilterra dentro a una metro fa partire un coro sull'Inghilterra non lo segue nessuno quindi canta da solo fa un po' una brutta figura un paio di tedeschi lo prendono in giro con un controcoro cantato da tutti poteva essere l'inizio di una situazione spiacevole invece chi ha lanciato il coro e l'altro si sono messi a chiacchierare tra loro e lo visti andare via abbracciati sulle scale mobili della metropolitana questo è solo un esempio l'altro giorno ero a Dusseldorf per Francia-Belgio e c'era una tavolata che sembrava un'assemblea dell'ONU andata bene cioè c'era un belga un italiano con la maglia di baggio un olandese un austriaco erano tutti lì bevevano chiacchieravano scherzavano chi parlava in inglese chi in tedesco chi in francese in qualche modo ci si capiva e devo dire che da quel punto di vista è stata una sorpresa anche per me soprattutto perché io ho coperto altri eventi ma magari sempre per una o due partite qua ci sono quasi dall'inizio rimarrò fino alla fine e veramente mi stupisce ogni giorno questa capacità della gente di provare empatia per l'altro poi chiaro ognuno ti fa la sua squadra io ero all'Ipsia per Turchia-Austria vi lascio immaginare i turchi dopo aver vinto una partita così sembrava capodanno all'Ipsia certo ma ritornando più sull'aspetto tecnico vero e proprio ma fino adesso la squadra che ti ha impressionato di più delle partite ovviamente che hai visto perché noi insomma le abbiamo viste in televisione però vedete una partita dal vivo capisci già qualcosa sì allora mi ha impressionato molto la Spagna come un po' a tutti però dico una di quelle cose per cui chi ascolterà voi compresi direte ah guarda sto scemo che fa le previsioni poi sbaglia secondo me stasera perdono con la Germania perché ho visto una squadra è una squadra molto giovane che si potrebbe un po' spaventare giocando di fatto in trasferta e la difesa io non l'ho vista così bene non ha preso la Porta e le Normand esatto se avete visto la partita con la Georgia io in quel caso ero allo stadio e negli uno contro uno in tutte le ripartenze in campo largo di soprattutto di Varasteglia e di Micautazze la Spagna è andata completamente nel pallone e davanti alla Georgia immaginiamo la Germania che ha giocatori altrettanto forti magari a parte musiale non so quanti su uno contro uno forti come come Kvara però secondo me potrebbero soffrire questa cosa perché il girone era in teoria un girone di ferro abbiamo visto che la Croazia era sulle gambe che l'Italia era quello che era che l'Albania era ancora meno e il gol con la Georgia l'hanno preso hanno rischiato di prenderne un altro e tra l'altro io ho questa mezza convinzione e non so se avete notato immagino di sì il gol dell'1-1 della Spagna arriva perché un giocatore della Georgia si infortuna rimane in campo non riesce a coprire la posizione la Spagna fa girare la palla finché lui praticamente non stramazza al suolo e nella zona di competenza sua Rodri tira e segna da quel momento ovviamente la partita sono gli errori secondo me di ingenuità che 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 un giocatore una squadra fa anche per eccessiva magari generosità cioè lì cioè quelli più sgamati fanno una scena della Madonna il gioco si interrompe o comunque viene in qualche modo invece la Spagna lì è stata chirurgica è stata chirurgica è stato in Porto poi magari avrebbero vinto lo stesso io non sono così convinto perché andare primo tempo sotto 1-0 con la Georgia che giocava sui lali dell'entusiasmo insomma arrivo anche lì la Spagna è stata la miglior squadra che ho visto finora la Georgia è stata sicuramente la più entusiasmante sia col Portogallo che con la Spagna e anche con la Turchia una partita piena di errori con una difesa messa male contro una squadra comunque forte come la Turchia ma una partita forse una delle più divertenti assieme a Turchia la Georgia ha anche dimostrato che si può anche fare una gara in difesa senza rinunciare a giocare come ha fatto l'Italia di Spalletti in questo caso contro contro la Spagna sul resto vabbè possiamo anche poi magari dopo ne parliamo un pochettino tra di noi guarda visto che poi parlavi proprio di Germania-Spagna commentiamo insieme questa clip che ti mostro è veramente un siparietto ma ne approfittiamo visto che siamo in clima partita da questo punto di vista guardiamo speriamo per il nostro bene di vincere venerdì e che sarà la sua ultima partita posso rispondere in maniera breve e concisa perché vinciamo noi è sufficiente? beh posso capire che sia un'idea significherebbe che gli spagnoli andrebbero avanti nel torneo ma non credo di sorprendere nessuno se dico che dal canto nostro abbiamo molte motivazioni per non essere d'accordo abbiamo buone possibilità il margine per fare bene sicuramente dobbiamo dare atto alla Spagna di aver giocato bene finora ma noi non siamo stati da meno sarà una partita interessante credo per nulla noiosa almeno questa è la mia sensazione e spero che alla fine passeremo noi conosco José Lu so cosa intendeva con le sue parole gli lascio questo desiderio e farò di tutto per far sì che non si avveri sì era ovviamente una clip che riguardava questo come dire questa punturina a distanza ma in realtà erano compagni di squadra fino a poche settimane fa José Lu della Spagna contro Toni Kroos della Germania José Lu ha detto visto che Kroos ha già annunciato il ritiro al termine di questi europei speriamo che cioè dispiace ma speriamo che sia questa l'ultima partita di Toni Kroos e non ce ne siano altre perché significherebbe passare il turno per la Spagna Toni Kroos elegante come dire anche lui ironico sarebbe comunque a prescindere che fosse che sia nei quarti di finale piuttosto che nella finale comunque daremo l'addio ad una leggenda del calcio proprio nel fior fior del suo rendimento no Roberto? Sì assolutamente uno dei migliori centrocampisti degli ultimi dieci anni giocatore incredibile veramente incredibile e che secondo me ha scelto il momento giusto per lasciare perché abbiamo visto un po' troppi esempi di giocatori che non mollano penso ad esempio a Totti penso a Buffon è chiaro che lasciare deve essere complicatissimo perché uscire da quel mondo ultra dorato e finire nel mondo non dico normale perché poi c'è gente che ha soldi puntatti fama però insomma deve essere difficile e saperlo fare al momento giusto secondo me è un'altra dote spesso un po' sottovalutata sì assolutamente assolutamente una gran testa e anche un bel coraggio però devo dire anche di Tony Cross Andre? sì no anche rimbalziamo un po' indietro rispetto insomma al tema del introdotto in precedenza sulla sulla Svizzera sulla Nazionale sull'Italia ma da italiani che stanno in Italia chiediamo a chi è proprio insomma che vive in Svizzera e che vive anche il calcio svizzero in maniera più interna ma qual è il vero successo di questa nazionale della nazionale svizzera e perché è così forte insomma quest'anno anche il movimento no? cioè la nazionale sta vivendo successo però noi da italiani no? o da spettatori comunque non è che per esempio in Champions League ci siano grandi exploit piuttosto che in Europa League non so correggimi se sbaglio invece questa nazionale viaggia che è una bellezza allora ci sono due binari uno è quello del campionato che è un campionato effettivamente di livello abbastanza basso ed è anche poco seguito c'è una cosa che pensavo prima di andare in Svizzera che il campionato svizzero fosse comunque molto seguito in patria in realtà in Ticino ad esempio seguono tutti la Serie A e quasi tutti sono tifosi quasi tutti sono giuventini tanto per cominciare poi ci sono interisti milanisti ovviamente poi c'è un mio collega che tifa per la Fiorentina ad esempio poi ci sono un altro che tifa per il Genoa e in Svizzera si guardano le partite ci sono i tifosi del Lugano anche tifosi insomma abbonati gente che segue la squadra in casa in trasferta e soprattutto nella Svizzera italiana insomma la situazione è un po' quella che è nella Svizzera tedesca è più seguito dove giocano ad esempio Basilea dove giocano Young Boys che è di Berna insomma lì ci sono anche dei belli stadi belle tifoserie si può anche se uno magari ora si va di moda al ground hopping no? e di andare per stadi e città e partite un po' strane e consiglio poi ovviamente devi andare in una partita giusta perché se vai a vedere il Basilea contro una squadra della Svizzera francese ultima in classifica non trovi nessuno allo stadio ma se vai in una partita di Champions la gente la trovi trovi un bel tifo è bello divertente ha detto questo il campionato svizzero non è niente di che come dicevate voi performance epocali non ce ne ricordiamo perché di fatto negli ultimi anni non ce ne sono state sono un po' il Basilea degli anni in cui si giocava Salah e la nazionale è un altro discorso perché i migliori giocano all'estero abbiamo visto anche in Italia i vari Froiler Ebischer Sommer e tutto è cambiato nel momento in cui c'è stata la grande migrazione dei popoli slavi durante e dopo la guerra in Jugoslavia quindi anni 90 quindi tutta la generazione dei Shakiri Shaka e di tutti quelli venuti dopo lì la Svizzera ha fatto uno scatto perché come sappiamo insomma serbi bosniaci croati kosovari insomma tutta gente che ha sempre giocato a calcio e sempre giocato a calcio molto bene si sono integrati molto bene sia da un punto di vista calcistico sia proprio da un punto di vista ambientale una cosa che secondo me è importante dire sulla nazionale Svizzera su questo tipo di nazionale Svizzera con tanti immigrati o figli di immigrati è che loro sono Svizzeri cioè si sentono molto chi bosniaco chi serbo chi kosovaro ma si sentono molto Svizzeri cioè loro hanno capito l'importanza di essere nati o cresciuti in un paese che li ha accolti e ha provato cioè li ha integrati non li ha solo accolti ecco e questo fa un po' la differenza no? pensiamo anche alle difficoltà ora non vorrei scadere troppo nella politica ma pensate in Italia la difficoltà ogni volta a far giocare anche semplicemente un giocatore nero che magari è nato in Italia cioè che non è nemmeno cioè se si apre una cherea che non finisce più io non vorrei cioè se volete la apriamo ma se volete l'apro e la richiudo tutte le questioni su Balotelli al di là della sua testa che non si è dimostrata all'altezza del valore tecnico tutte le polemiche intorno a Balotelli erano strumentali che un giocatore forte come Udoge abbia faticato a trovare un posto in questa Italia è assurdo e io temo che ci sia una componente di quel tipo insomma il razzista diciamo le cose come le penso c'è una componente di razzismo magari non di razzismo esplicito ma qualcosa c'è e ora vabbè Udoge non c'è anche perché si è infortunato principalmente ma anche prima non veniva convocato spesso questo era molto strano proprio perché su quella fascia non è che avevi delle grandi alternative tornando appunto alla Svizzera lì invece c'è un'integrazione reale poi è chiaro che non sempre funziona non a tutti i livelli problemi ci sono anche in Svizzera e le comunità magari più povere le comunità slave albanesi parte anche gli italiani che vengono presi insomma dalla componente più di destra politica e civile vengono presi un po' di mira i frontalieri italiani che vanno lo dicevo prima in presentazione come Alanews perché la madre di NewsGen è Alanews che è un'agenzia di stampa multimediale che da più di dieci anni che esiste a differenza dei nostri giovani della generazione Z con NewsGen abbiamo affrontato spesso e volentieri anche proprio per la TV Svizzera il tema del frontalierato ed effettivamente cioè il parallelismo c'è cioè questa un po' questa ecco diffidenza anche verso il frontaliere da parte di chi a Svizzero chiamiamolo così 100% è un'etichetta brutta ma insomma per farvi capire e quindi assolutamente comprendo comprendo ciò che intendi e quindi sì infatti io ecco una cosa che volevo dire poi in realtà sulla Svizzera ci concentreremo anche nella prossima settimana perché avremo un ospite caro Roberto che io ho incorsato il mio percorso calcistico non giornalistico l'anno prossimo allenerà in Serie B lo Schaffhausen come vice di Ciriaco Sforza altra vecchia conoscenza del calcio italiano in Italia per la verità Sforza non è che abbia lasciato chissà quali nostalgie con la maglia interista però Aldo Giovanni e Giacomo c'è Giacomo Poretti che in un film famoso va in giro con la sua maglia però un grande giocatore svizzero che allenerà lo Schaffhausen noi con Teodoro Palatella che è questo allenatore che ha fatto non so se lo conosci ma ha ricoperto il ruolo di direttore tecnico delle giovanili del Lugano spesso mi ha invitato magari poi ti passo anche il contatto se voglio farci una chiacchierata perché no non lo conosco ma perché no di robe tra giornalisti no no comunque mi ha come dire mi aveva un po' aperto anche per l'interesse che nelle giovanili poi magari prendendo i classici cervelli italiani poi il lavoro che veniva fatto all'interno dei settori giovanili quindi per esempio lui è stato a Lugano credo 5-6 anni ha fatto un lavoro molto molto intenso che io ho avuto modo di vedere c'è una sorta ecco ovviamente la pressione è molto minore anche sulla nazionale immagino che si giochi anche su quello un po' il rendimento della Svizzera di Iakin ma sicuramente è un qualcosa è un come dire è un movimento quello della nazionale è un contesto nel quale si può lavorare bene e lì la Svizzera emerge devo dire rispetto all'Italia guarda adesso le kerel che ci sono oggi sulla nazionale sì sì no quello sì poi in realtà sulle aspettative sulle pressioni un po' ne avevano perché avevano perso 6-1 negli ottavi di Coppa del Mondo in Qatar con Portogallo e la cosa aveva creato un sacco di polemiche la squadra aveva giocato le qualificazioni male cioè era riuscita a qualificarsi ma giocando sempre male o quasi sempre male e quindi in realtà un po' di pressioni un po' di malumori c'erano poi appunto sono pressioni di malumori svizzeri quindi immaginatevi la differenza con l'Italia con questi psicodrammi spalletti insomma tutte le cose che abbiamo letto e visto in questi giorni e quindi sì quella parte c'è e visto che mi hai parlato del Lugano aggiungo una piccola cosa magari può anche interessare a chi è appassionato chi vive magari più vicino penso a chi sta semplicemente anche solo a Milano che è un viaggio di poco conto il Lugano sta lavorando molto bene ha fatto tre finali di Coppa negli ultimi tre anni vincendone una è arrivato secondo in campionato e quest'anno farà il preliminare di Champions League contro il Fenerbace di Murigno e giocano molto bene c'è questo allenatore si chiama Mattia Crocitorti di cui addirittura almeno questo mi si diceva dall'ultimo uomo che era uno dei papabili per il Bologna per il dopo Malta magari era solo una butada magari ci si è pensato il Lugano gioca molto 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 bene e quindi ora tra un po' avranno anche lo stadio nuovo può essere una bella esperienza purtroppo manca un po' il tifo quello caldo però a chi piace vedere giocare bene a calcio secondo me a Lugano ti fai da Milano almeno ti fai una passeggiata a Lugano nel weekend e magari viene lì a un tiro di schioppo quello sicuro esatto un consiglio che do perché secondo me meritano purtroppo in Coppa non si può vedere perché lo stadio essendo insomma ci sono i lavori e non è non è agibile per le coppie europee quindi giocano credo a Sion mi pare ma non sono sicuro mi sembra di sicuro sì poi Sion c'è passato ovviamente c'è passato Balotelli Gattuso insomma c'è stato un po' di gente tra l'altro Calafiori di cui di cui si parla tantissimo si è parlato comunque tantissimo nelle settimane passate lo stesso Calafiori ha avuto una un'annata a Basilea se non sbaglio esatto dopo dopo insomma il debutto con la Roma io direi si è anche passato a Los Angeles sugli europei Roberto è stata una bella chiacchierata ti ringraziamo si è un attimo disconnesso ora si è riconnesso dalla sua altalena eccomi ecco questa è l'altalena non so se vedete le corde dietro di me guarda che la prossima volta però ne vogliamo un'altra a questo punto dovrei comprarla perché a casa vi sembrerà strano ma non ho un'altalena in salone allora non prenderci troppo gusto ma va bene dimmi domanda becca velocissima chi vince gli europei aia guarda a un certo punto ti avrei detto l'Austria però non lo posso più dire quindi ti dico Francia anche se sta giocando malissimo è vero è vero però basta che si sveglia uno grazie Roberto Scarcella ciao a presto ciao buona giornata ciao 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 Ciao, ciao.